Qui c'è da correggere le manovre che abbiamo alle spalle, che bisogna dare credibilità. Non è credibile che noi prendiamo 20 miliardi dall'assistenza o le detrazioni fiscali alle famiglie. Non è credibile. Quindi bisogna fare qualcosa d'altro. Quindi bisogna prendere un po' di soldi dove i soldi ci sono. Quindi mi pare molto difficile escludere i patrimoni immobiliari più rilevanti da uno sforzo di questo genere. E deve essere uno sforzo che si fanno tutti, ma chi ha di più deve dare di più. Prima è un tema molto delicato. Adesso vedremo quali saranno le iniziative del governo. Bisogna sempre sapere che in Italia, come si è visto anche recentemente, quando muovi un punto succede qualcosa. Succede qualcosa in termini di inflazione. E quindi condivido il fatto che questo sia un tema delicatissimo.